ok fate questo modo solo per questo fight faglielo a loro fanno una cosa ma loro i settari ma sono in 7-1 o cosa è il tank diciamo si i falconi ho già sentito ecco allora sono frost curst attenzione al tank c'ha la quello che riduce le resistenze quello sto occhio a frost che ti poca via indietro vengono cattivissimi buona berret su berret si si è full debuffato le due berret vado 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 corial 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 dispel soon ancora berret falconi falconi mentre stava in visibilità bongo ti metto il coso il tank vai su berret sono in immunità non ho più niente switcha qua dietro corial 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 l'ho buco l'ho bucato berret guarda ho fatto un ottimo falconi berret occhio di misca sul coso corial 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 uccidi corial dio caro dai occhio dio falconi 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 vai col chase vai col chase appena appena c'è al giro so un po' tutte le tere e non seguiamo l'ultimi e uno lo perdiamo sicuro vai 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 andiamo 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 io luto un attimo questo fast c'è anche quello dietro eh proprio l'iref e luta no 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 io luto solo uno eh ma come come